Serie A 1989-90, ottava giornata, Lecce 1-1 Fiorentina 0 a risolvere la partita, ci pensa Pietro Paolo Virdis. Dopo aver trascorso diversi anni nel Milan, del quale era diventato una bandiera, ed aver vinto tutto quello che un calciatore può vincere, il 33enne Sardo in estate accettò la proposta dei giallorossi, con i quali in seguito chiuse la carriera. Il suo primo gol in maglia pugliese lo realizzò contro i Toscani, una rete che consentì ai leccesi di sorpassare temporaneamente il Milan in classifica. Sei che hai un punto in più del Milan? Sì, infatti è una cosa strana, ma il calcio è bello per questo, è una stranezza. Il Milan tra mille acciacchi si trova adesso dietro il Lecce, io gli auguro che si riprenda presto.